Nello stesso giorno, cioè parlo sempre di domenica 7, ai torinesi consiglierei invece il concerto dell'orchestra filarmonica di Pietroburgo diretta dal maestro Temir Canov. E qui c'è una delle differenze con il progetto Brahms di cui ho già parlato a Milano, insomma a Milano Temir Canov si presenterà anche lì e farà la seconda sinfonia di Brahms, ma io volevo differenziare i programmi e allora gli ho chiesto se per piacere invece della seconda sinfonia di Brahms avrebbe suonato, per farmi piacere insomma, ecco Petrushka e naturalmente, Petrushka di Stravinsky si capisce e naturalmente mi ha risposto di sì. Quindi a Torino avremo un programma assolutamente russo che comincia con Anatoly Liadov, un piccolo poema sinfonico di questo compositore ormai un po' dimenticato ma molto raffinato, poi avremo il Petrushka che vi ho appena detto e poi il secondo atto intero del balletto dello schiaccianoci di Tchaikovsky.